BELLA A TUTTI DA PORK MODS 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 Siamo partiti Via, via, via Allora Vediamo di arrivare Almeno nel gradino del podio Bisogna girare subito No, 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 no Dai, dai, che recuperiamo Andiamo, levatevi tutti Via, via, via Anche lui ha la tempesta BELLAватulo Guarda questo con la tempesta che mi spinge Via, 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 via Andiamo Oddio Questo lagga Andiamo Cerchiamo di prendere qualche scia Dai Allora siamo in scia Bisogna fare attenzione che usciamo fuori Mio dio meno male che ho frenato Allora Andiamo siamo in terza posizione Fino adesso Dai 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 Ok Scendiamo qua Siamo in prima posizione Allora andiamo 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 Ok Oddio stava quasi spandando Andiamo Oh mio dio quello è passato proprio all'ultimo Ok guardate che spettacolo qua Un wallride fatto di turbo Via 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 Non sbagliare nulla sui Non sbagliare nulla Ok perfetto Allora rifacciamo questa cosa Con i tubi Rifacciamo la prima volta che la facciamo Dai 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 Allora Quando fidiscono Ok perfetto Vediamo di fare qualche trick qua Vai Rigirate Rigirate Grande Domus Perfetto Non è riuscito benissimo Però ce l'abbiamo fatta Questo dovrebbe essere il secondo giro Se non mi sbaglio Eh si regà Ah scatta qui Perfetto Questi due stanno fermi pure Non si sa il perché Allora Quanti siamo in gara 12 Però è come se fossimo 10 Ok Giriamo qua Perfetto C'è un altro dietro di me Chi è il secondo Luke Dai Dai Non dobbiamo sbagliare Nulla Vai sui Perfetto Qua lasciamo un po' l'acceleratore Perché se no andiamo a sbattere Ok Qua c'è un altro checkpoint Vai 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 Proseguiamo Qua stiamo attenti a questa curva che È un po' strana Allora Vai Ah non c'è stato manco bisogno che frenavo Vai adesso Prendiamo questa rampa Vai 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 Facciamo wallride Tutto perfetto per favore Ok Se sbaglio qua Me la gioco la prima posizione Infatti non devo sbagliare nulla Dai 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 Ok Perfetto Andiamo 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 Adesso c'è di nuovo il wallride con il turbo Mi sembra commesso solamente due giri Ma tranquilli che adesso Dopo ne facciamo un'altra ancora di gara Vai 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 Ok È abbastanza facile questa garanzia È facilissima Però bisogna stare sempre un po' attenti Via 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 Facciamo il tubo qua Dai che è quasi finito Stavolta ci spariamo un altro trick Vediamo di fare questo qua Vai Vediamo di farlo doppio Oh 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 Sì ce la facciamo anche bene Perfetto Andiamo Tra poco si Eccolo l'altra guardo Adesso andiamo a concludere Via 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 Ok Ok prossima gara Oh il secondo stava proprio dietro di me comunque Ok nuova gara Volevo prendere la penetrator Ma non ho fatto in tempo E ho dovuto prendere per forza la tempesta Era consigliato di 20 Quindi speriamo che non ci siano pezzi Dove non si può fare con la tempesta Allora scusate ancora per la voce Io non ce la faccio più a parlare così Allora Oh 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 Non mi buttate fuori per favore Andiamo 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 Ok Allora questa volta siamo tanti No sempre 10 Regà io ogni volta E vedete crasha la gente Non so il perché Allora oh regà che spettacolo Questa non l'ho mai fatta È una spirale fatta di turbo Ok Andiamo 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 Ok Perfetto Oh 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 Chi era quello Andiamo Speriamo che qua non ci siano guide O qualcosa che non ci riesce Allora Vai Vai Dovrebbe essere perfetto Io non tocco nulla Ok Ok Allora andiamo 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 Cosa c'è da fare qua Non si sa Ah Mi devo rigirare Rigirati 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 Ok Perfetto Siamo in seconda posizione Di nuovo lui Luke è in primo Pure prima era a secondo Se non mi sbaglio Andiamo 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 Oddio Cosa ho fatto No no Mi sa che ho sbagliato No Pecchiato Riga Mannaggia Allora Anche lui ha sbagliato Perfetto No uno ce l'ha fatta però Dobbiamo stare Veramente attenti Sono anche tre giri Quindi possiamo andare tranquilli Ok Ok forse ce la facciamo adesso Perfetto Uno Uno solo ce l'ha fatta Dovrei essere secondo Se non mi sbaglio Vediamo chi è il primo Grandissimo All you Allora Andiamo 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 Veloci qua Facciamo sempre attenzione Lasciamo un po' L'acceleratore Perfetto Andiamo 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 Ok Adesso c'è di nuovo La spirale fatta di dubbi No Stanno pure tutti qua Stanno tutti qua E c'è anche il primo Se non mi sbaglio Vediamo di recuperare No 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 Credo che ormai ho sbagliato No Prendi No non ha preso neanche il checkpoint Eh purtroppo ero partito male Nella spirale Ok Adesso ce la dovremmo fare No Non mi spingete Non mi spingete Adesso ce la facciamo Sì Perfetto Siamo andati un po' strani Però Ce la potremmo fare No Meccato Dai andiamo Oh prima posizione No è baggato Credo che sia baggato Allora andiamo 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 Ok Regà io Io me la rischio Io me la rischio Oh mio dio Il suino Cosa ha fatto Oh mio dio Perché a me piace troppo Fare i trick Nelle gare Anche se a volte Potrei fare qualche fail Però Mi piace troppo farli Ok Qua abbiamo girato anche bene Siamo in terza posizione Avrei rischiato prima Se rischiavo Arrivavo ultimo Vai 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 No credo di aver sbagliato Sapete Lo Oh 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 Aspettate stavo pure respawnando Non mi dite come ho fatto E siamo pure in seconda posizione Il primo è davanti a noi Dai Dai Vieni qua Vieni qua Oh mio dio Regà stavo facendo Un fail Andiamo 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 Ok Allora Se lui sbaglia la spirale Abbiamo vinto la gara Abbiamo vinto la gara Oddio Ci avevo quasi creduto No mi sa che ha sbagliato Mi sa che ha sbagliato E noi non sbagliamo Perfetto Via 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 Siamo in prima posizione Andiamo Andiamo Non sbagliarmi Qua regà Qua regà Stavolta Non me la rischio Non me la rischio Per niente Che prima Ho rischiato troppo Ok Qua Bisognava rigirarsi Se non mi sbaglio Sì Mettiamo la macchina Prima dritta E poi Ci rigiriamo Io lo faccio con L1 L1 È analogico Dove bisogna girare Ok Adesso Bisogna andare Lassopra Pure qua Non devo sbagliare Anche perché c'è il traguardo Vai 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 No 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 Sì 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 Mettete bene Mettiti bene Andrà fuori No Ok regà Ci andiamo a prendere Questa prima posizione Se vi sono piaciute queste chiare Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Iscrivetevi su Instagram Saluti Questi sui Bella Al prossimo episodio Grazie a tutti.